Per l'accusa avevano messo su un giro di estorsioni a danno di imprenditori originari di diverse province siciliane, ma una parte della regia delle richieste di Pizzo avrebbe avuto Caltanissetta come base, tanto che la procura nissena ha già firmato la richiesta di rinvio a giudizio per 10 persone, ritenute affiliate o vicine a Cosa Nostra e sulle quali il gruppo di Caltanissetta deciderà nell'udienza preliminare fissata per settembre. Tra i nomi degli imputati spiccano quelli di Angelo Schillaci di Campofranco, considerato colui che aveva raccolto il testimone di reggente mafioso della provincia nissena, e di Angelo Palermo, considerato il capo mafia di Caltanissetta, che attualmente sta scontando una condanna all'ergastolo. Tra gli imputati anche l'imprenditore nisseno Antonino Bracco, con diversi trascorsi sul groppone per fatti di mafia, l'ex dipendente della Calcestruzzi Spa Giovanni Giuseppe Laurino di Riesi e Giuseppe Rindone di San Cataldo. L'indagine risale al 2014, ma solo adesso è stato possibile ricomporre il mosaico grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, quali Salvatore Dario Di Francesco, Alberto Ferrauto, Ercole Iacon, Aldo Riggi e Pietro Riggio. Le accuse riguardano una serie di richieste di pizzo a 18 imprenditori provenienti sia da Caltanissetta, San Cataldo, Mussomeli e Mazzarino, oltre che da Alcamo, Altavilla, Canicatti, Favara, Licata e Riposto.